fast ai puoi livellare subito velocissimamente oscite non si può come che mi son fatto comunque da anno e ti fai da anno da con la caduta puoi lanciargli qualcosa c'erano le casse davanti io faccio la persona civile scendo dai scale no aspetta 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 all'altra parte non siamo andati andiamo ma andiamoci dopo quando apriamo lo shortcut no oh si non ho voglia di tornare indietro adesso eh se riusciamo entriamo dal mimic si vai no aspetta 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 ammazzati almeno questi ma che mi faccio la bravo eh eh ah ma puttana allora mi chiede che ti dite andamanti aspetta oh fuck ho sempre vissuto un po' di bani evi daia che io tiro si è sempre vissuto un po' di spessare ebbè aspetta eh cerco di prendere qualcosa guarda come muoio oh fuck no no Dove... dove sei? Dove sei? Sono giù dal Mimic Eh aspetta Ok, non penso che è andato Ok, è andato in teoria Ok, è andato in teoria Ah, il randello è quello che ho io Va bene Bravo Cosa li casco in testa magari? Um, se vuoi Non lo so che c'è Lievati No, Rainsy, sir Mi ha tirato un calcio Non hai più restos? No Ah, non hai problema Vedi è estrosa Cosa hai? Ah, è un ascio Ah Io ho un ascio E sono scuro Perché sono scuro Ah, vai Mi faccio finire Ok 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 I danni Ma è porco Oh, l'ho preso comunque Adesso è il momento per me di stare dietro Ah, ma questo non è il foster Cos'è? Questo è il mito? Non lo so, quante percentuale hai? Eh, ho 15.1 su 5 Ma, ma Sì, mi sa che questo qui Perché prima facevo così Sì, basta il foster Io vado su veloce, eh, prima Cioè, anche tu vieni su veloce Facciamo fino... Ah, no, ma è vero, qui posso cedere Ma no, via, muoio quando muoio Hai ancora bisogno di me Non farlo Perché io... Aspetta 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 Questo Ok, cadi mentre lo fai, per favore Aspetta Aspetta Devo già farlo Oh Ah, sì? Vuoi che lo faccio? Era cosa difficile andare qua? Sì Tana L'ho mancato Ma è caduto Ma, ah, ma è caduto Ah, ok Ha finito di correre sto qua Oh Sì, però, dando un po' ne faccio Beh, oddio Più di me di sicuro Cingiamo Ok Non ha senso, però Ok Andiamo dal tizio Chi? Dal Dal mio amico lato Ah Hai già la chiave Eh, non ho la chiave? No Ah no Eh, l'hai presa? Ah, eccolo Hoi 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 La voglio Eh, io li vado addosso diretto Tu sei sì pronto A colpirlo Oh, che senso ha dirmi questo Se poi lo uccidi subito Io sapevo che lo uccidevi Eh, io Io non pensavo di essere Se lo attacchi Prima che si trasforma L'ammazzi Eh, boh Ma no Zubia Queste sono le basi Di questo gioco Comunque È troppo forte Quest'arma Per essere in RDG Eh, boh È in un minimico apposta Eh, vai No, sei morto Mi sono buttato di sotto Eh Cosa faccio? Vado lì al falò Come vuoi Puttana Sì, vai E queste sono le morti Da Dark Souls 1, sai Perché In Dark Souls 1 Se tu premi cerchio Quando sei tipo Staggerato Così Appena puoi rollare Non rolla da solo Qua invece rolla da solo Mi ha rollato da solo E giù WIIII Mi ero anche appena curato Cazzo Eh, ti aspetto Al secondo falò Riesci a riusciarla fino lì? Mmm, sì Cioè, con chi pensi di star parlando? Vengo contro Ma no Ripeto Con chi pensi di star parlando? Con Joseph Ratzinger E invece Ermenegigia Ah, ok Scusa, sbagliato No, non ti preoccupare La voce training Aspetto Le scale Lascialo Sì, sì Apro giusto lo shortcut Del mimic Tanto che Sono fatto anime facili Con il drago Faccio veloce un perry al cavaliere E poi accendo il falò Puttana Gli ho fatto un perry Veramente Che culo Via Via fuori dalle palle Merda Non posso accendere il falò Perché mi stai seguendo Scheisse Ah, non sta venendo Oh, posso accendere il falò Mamma mia Wow, mamma mia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti